Allora che pezzo volete ascoltare ragazzi dai Abitudine Ma abitudine vi faceva cagare L'odore L'odore vi faceva cagare Facciamo un pezzo così così, vediamo Bezzina, portaci 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 la crisi la crisi la crisi un nuovo il primo il primo il primo rispettere il primo Pirlo di l'arloci il primo il primo il primo il primo il primo Vinoci da valsalare Procedere di riusciti a pisare A Sardi!